E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi siamo finalmente all'estrazione del contest che è iniziato per meno una settimana fa se non poco di più Infatti mi scuso per questo ritardo che c'è stato ma purtroppo questi giorni sto super mega sinato Perché ho due esami a distanza di quattro giorni l'uno all'altro quindi in realtà è un miracolo Anche sto facendo questo video lascio aperte Passiamo a questa schermata che praticamente è la schermata youtube del mio video che ho fatto Innanzitutto volevo ringraziarvi per il progresso che c'è stato in questi giorni sul canale che è fantastico veramente Veramente fantastico se riusciamo a fare in 10 giorni altri tipo 65-70 iscritti arriamo a 1000 Sarebbe veramente una ficcata pazzesca quindi spammate condividete non lo so Dite al vostro amico che gioca World of Warcraft che c'è uno youtuber italiano carino puccioso che fa video carini E arriviamo a questa mitica soglia delle quattro cifre Il video come potete vedere è andato benissimo perché abbiamo superato ovviamente i 100 mi piace E vabbè 639 visualizzazioni che per me sono tantissime L'altro giorno siccome ho un minimo di tempo mi sono messo lì con una funzionalità random Che è questa qui da questo sito che è random.org In cui praticamente voi dovete semplicemente cliccate qui generate E vi esce un numero a caso Io l'ho fatto ma come un deficiente non ho registrato Però vabbè sono stato diciamo corretto perché il primo numero che mi è uscito lo sono andato praticamente a contare Tutti i vari commenti L'ho fatto aprire tutti e ho contato Fino a che è uscito questo carissimo nostro amico che è Roby Infatti io ho detto dammi tu fate il dag pg E io ho detto che ha vinto E' tutto contento Giustamente direi visto che si è beccato 50.000 con la gratis Di conseguenza adesso siccome non ho tempo di tardarglieli e farci il video Purtroppo dovrò per forza di cosa spedirglieli E dopo semmai farò un video in cui non lo so mi farò mandare uno screen qualcosa Così che potrò metterlo e testimoniarvi il fatto che effettivamente li ho mandati Allora il suo nome è Blackstoyer Di conseguenza adesso andiamo qui Send me l'ho fatto sì perfetto Nemesis infatti Io come potete vedere ho 50.000 gold quindi rimango 2.000 gold Con il soggetto rischiamo complimenti E lo invito particolarmente a lasciarmi uno screen Ecco qua il nostro messaggio è stato mandato Praticamente niente Gli ho detto grazie per il supporto Gli arrivano i soldi Scriviamo 50.000 Giusto sì No ci metto pure un silver e un copper Giusto per e mandiamo Send e voilà Questo video ragazzi sarà molto corto proprio il fatto che non ho molto tempo questi giorni E fino al 23 sono un po' incasinato Dopo il 23 avrò molto più il tempo per registrare Quindi se avete magari delle idee, dei contenuti, delle domande da farmi Mi piacerebbe fare tipo una specie di Q&A che fanno tutti Quindi se avete delle domande scrivetele qua sotto Di qualsiasi tipo anche personale non c'è nessun tipo di problema E magari se ne vedo abbastanza Devo magari anche 7-8 E riesco a farci un video Senza problemi ci faccio un vlog Mi piace fare i vlog perché Boh Mi gusta Come sapete io sono il Games Week Ci sono già tipo 5-6 persone che me l'hanno chiesto Sì ci sarò E Ci sono già state 4-5 ragazzi che mi hanno detto Speriamo di vederci Lo spero tantissimo anche io ragazzi Quindi Spero più che altro che mi riconosciate Io Sono così Però senza occhiali A volte mi vedete anche senza occhiali Perché io sono orbo E di solito infatti porto le lenti Però a casa non è che mi posso stare a mettere lenti Avanti il computer Sennò mi esplodono gli occhi Come ho già detto mi farò una maglia In cui avrò il logo del canale davanti E dietro probabilmente scriverò Devil Joe Il rosso Oppure non lo so Con qualche effetto Oppure scriverò tipo World of Warcraft player Una cosa comunque World of Warcraft In modo che comunque Siano abbastanza Diciamo Visibile E riconoscibile Perché semplicemente con il logo davanti Che riesco a chiamare Per I più superficiali Non lo capiscono Però magari se vedono Scritto World of Warcraft Da qualche parte Mi riconoscono molto più facilmente Questi occhiali di merda Sono sporchi Tra l'altro E quindi Vi ringrazio tantissimo Come sempre Il supporto che mi date Ultimamente Veramente Questa cosa mi sprona Non potete capire Quando Quando Perché Il lavoro Che viene apprezzato È la cosa più bella Che possa esistere Io appunto magari Se vedo che un video Mi va molto bene Le persone Mi chiedono altri video Mi chiedono Fai questo Fai quell'altro Giochiamo insieme Eh Se appunto Riesco a ritagliarmi Un'ora di tempo Come sto facendo adesso Per fare questo video Lo faccio molto volentieri Piuttosto che magari Mettermi a giocare da solo E non fare un cazzo Quindi accendo tutto E mi metto a registrare Detto questo ragazzi Io Vi saluto E Ci vediamo Il Games Week Nei prossimi giorni Cercherò di far uscire Almeno un video Prima del 23 Giuro che ci proverò Vi ringrazio tantissimo Per la visualizzazione Faccio i complimenti Ancora ragazzi Che ha vinto E ci vediamo Il prossimo video Come sempre Bella